Sono arrivati regolarmente in Puglia i 241.000 vaccini Pfizer distribuiti a loro volta nelle sei province della regione. Gli hub hanno ripreso la loro attività, alcuni con una nuova programmazione dopo il momentaneo stop di ieri quando le scorte erano in pratica terminate. Entro la giornata di oggi la Puglia supererà quota 3.300.000 somministrazioni totali mentre è stato annunciato per luglio una riduzione dei rifornimenti di vaccini Pfizer e Moderna rispetto alle attese a preoccupare oltre agli appuntamenti di coloro che devono avere la prima dose e la possibilità che chi deve ricevere la seconda possa subire ritardi tali da inficiare sull'efficacia stessa del vaccino. Preoccupazioni tuttavia subito ridimensionate, la regione Puglia infatti ha garantito che le seconde dosi saranno senz'altro garantite, la flessione sulle nuove consegne di vaccini anti-covid non riguarderà solo la Puglia bensì tutta l'Italia con una media del 5% in meno tra giugno e luglio come annunciato dagli uffici del commissario dell'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Nella BAT sono stati segnalati disagi questa mattina a Canosa di Puglia dove l'hub vaccinale è stato preso letteralmente d'assalto tra chi doveva ricevere la prima dose e chi la seconda. Quasi mille i vaccini a disposizione nel centro canosino a quanto si apprende sufficienti a coprire tutti i cittadini prenotati ma la lunga coda e l'attesa non hanno fatto mancare qualche malumore.